Noi vediamo quale stai dicendo E parliamo di Civati? Eh beh allora ho capito La prima proiezione arriva in casa Leo Beh 3 e 3 fa 6, no? Siamo al 6, no Pippo Cioè lui Siamo a 3 e 3 brutto Prima c'erano 6 Pippo tu l'hai preso di vera Civati No invece è molto affetto Sono molto affezionato a lui Che sa che vignetta avresti fatto in caso Come è Panda? Ma quelli non si estinguono Allora Che cattiveria Allora ragazzi No no non è una cattiveria